Una vera e propria bomba d'orologeria, due container lasciati incustoditi dove all'interno erano stipate ben 4 tonnellate di fuochi d'artificio di fabbricazione cinese. E questa è la scena che si sono trovati davanti questa mattina i carabinieri di San Benedetto quando, armati di cesoie, hanno rotto i lucchetti e le catene che sigillavano due container situati presso un casolare nella zona della Valle del Forno. Intorno alle 10.30 i militari hanno fatto irruzione nella proprietà e sono rimasti basiti davanti all'enorme massa di fuochi d'artificio pericolosissimi e lasciati incustoditi. Il materiale in questione, inoltre, si trovava a poca distanza da altre case e dall'abitato cittadino. Se anche solo una piccola fiamma fosse arrivata a contatto con il container, l'esplosione non avrebbe di certo risparmiato le proprietà limitrofe. Immediatamente i militari, coordinati dal capitano Giancarlo Vaccarini, si sono messi sulle tracce dei responsabili e sono arrivati ad arrestare un imprenditore di 57 anni del Terramano e suo fratello, residente invece nella provincia di Ascoli. Il primo è titolare di una ditta che commercializza giochi pirici e che già l'estate scorsa venne denunciato dopo che i carabinieri avevano scoperto un analogo quantitativo di botti in un casolare di offida. Evidentemente gli agenti, sapendo che il lupo perde il pelo ma non il vizio, si sono messi alle sue calcagna anche nel periodo pre-natalizio, arrivando così al nascondiglio della Valle del Forno. Il valore commerciale della merce sequestrata in mattinata monta circa un milione di euro. Gli investigatori però non hanno concluso le loro indagini e sono ancora al lavoro per risalire alla provenienza dei fuochi. A coordinare l'inchiesta è il PM di Ascoli Umberto Monti.